Amiche e amici di Spazio Games, bentornati sul nostro canale, finalmente con una notizia che in tantissimi stavano aspettando. Fin dal lancio di PlayStation 5, infatti, c'è stata solo un'altra cosa più richiesta di PlayStation 5 che non si trova, ed era la possibilità di acquistarla in colori diversi dal bianco. Ebbene, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivato l'annuncio ufficiale. PlayStation 5 avrà le sue scocche colorate che vi permetteranno di modificare il colore della console. La notizia era nell'aria già da qualche giorno perché erano spuntati i breveti di queste nuove scocche e come ricorderete già negli scorsi mesi PlayStation aveva in un certo senso dichiarato guerra alle scocche non ufficiali. Queste scocche colorate che arriveranno a partire da metà gennaio circa sul rivenditore online ufficiale di PlayStation e nei negozi a partire da febbraio saranno in nero, il colore più richiesto in assoluto, in rosso uguale al colore di DualSense, in rosa, in viola e in azzurro. La notizia, oltre a quella delle scocche, è che ad accompagnare i nuovi colori ci saranno anche i nuovi DualSense dedicati e abbinati, quindi sempre a partire dai mesi di gennaio e febbraio potrete acquistare DualSense azzurro, DualSense viola e DualSense rosa. Al momento non ci è dato sapere quale sarà il prezzo di listino di queste scocche, ma Bloomberg anticipa dal Giappone che il prezzo in yen dovrebbe equivalere più o meno ai nostri 50 euro, quindi sembra legittimo aspettarsi un prezzo da quelle parti. Come sempre noi di Spazio Games vi terremo informati per tutte le novità che riguardano il mondo dei videogiochi, io intanto vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, sono Stefania e vi do appuntamento presto per un nuovo video sul nostro canale.